In qualità di consigliere Comunità di Valle Primiero, ho presentato un ordine del giorno inerente ai parcheggi che verranno costruiti nel comune di Mezzano. Mi sono sorti però dei dubbi rispetto alle finalità e alle caratteristiche di una parte dei fondi, i fondi FUT, adoperati per il rifacimento della piazza del Brollo e poi la costruzione sotto dei parcheggi interrati. La proposta che faccio, anche se l'appalto è già stato vinto o è già stato dato, sarebbe più utile fare in questo periodo di crisi dove i soldi pubblici devono essere scelti accuratamente e finalizzati con attenzione. Per esempio nel rifacimento del parcheggio ex calchera dove abbiamo la possibilità di salvare una piazza creativamente ai giovani e dare un servizio quale i parcheggi interrati.